Nella casa nuova, non mi trovo male, il vero casino che ho avuto è stato quando sono andato in comune per rifare il certificato di residenza, la carta di identità che mi era anche scaduta, che c'è una burocrazia in comune a Milano, non so se siete stati ultimamente, stati in comune, c'è burocrazia qui, ha fatto caso? Sono andato, no, io ho avvolto la sensazione che ho potuto creare il mondo in sette giorni perché non aveva ancora creato l'impiegato comunale. Adesso non vorrei offendere nessuno, c'è qualche impiegato comunale stasera qua? No, chiedo perché c'è un impiegato... No, adesso non voglio generalizzare perché ne conosco anche certi, precisi, c'è un amico, un impiegato comunale, ma uno preciso, alle otto spaccate in ufficio, cioè uno che comincia a fare un cazzo ma già dal mattino presto, ecco, diciamolo, no? Comunque dicevo, entro in comune per rifare carta di identità, eccetera, eccetera, l'usciere mi fa, per motivi di sicurezza dell'antiterrorismo dovrebbe passare sotto il metal detector. Dico, va bene, fanno no, inutile, tanto non funziona. Dico, vabbè, allora mi deve fare un'autocertificazione. Mi dà sto modulo, con su scritto dichiaro in fede di non essere un terrorista, di non possedere armi proprie o improprie, dico, scusate, ma le balle che girano sono considerate armi improprie o effetti personali. Fa, non so, però per motivi di sicurezza le deve lasciare nell'apposito cassettino. Non li ho lasciati, eh. Comunque arriva l'ufficio informazioni, dico, un giorno devo rifare la carta di identità. Il tipo fa, non so, dico, scusi, ufficio informazioni, fa, boh. Dico, no, guardi, io lo sto dicendo io, c'è scritto fuori, ufficio informazioni. Esce dallo sportello, fa, già, già, è vero, scusi tanto. Si è messo a sfogliare un librone, no? Fa, per la carta di identità sportello 18. Dico, scusi, dov'è lo sportello 18? Qui si sono anche staccati i numeri. Fa, vabbè, fra il 17 e il 19, no? Se vuole informazioni più precise, mi fa, deve rivolgersi allo sportello di fronte. Mi giro e sullo sportello di fronte c'era su un cartello con su scritto, torno subito. E di fianco, anch'io, 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 e va a fa culo. Finalmente, dopo mezz'ora, arrivo allo sportello 18, tipo, non mi degna di uno sguardo. Dopo un po' dico, scusi, posso fare una domanda? Fa, sì, treblici e copia. Non ha capito, volevo fare una domanda. Ah, sì, se mi compila il modulo. Allora compilo il modulo, proprio scrivo, posso fare una domanda? Glielo do. Fa, non riesco a leggere, sa di cavo. Ci ha detto, guardi, ho un problema, ma non è grave come il suo. Fortuna non ha capito. Non ha capito, fa, sarebbe il problema. Dico, devo rifare la carta d'identità. Mi fa, eh, ci vorrà un bel po', eh. Chiedo perché. Fa, ah, io sono nuovo di qui, fino a ieri lavoravo l'ufficio informazioni. Ma ci sembra possibile? Ma questi qua ci paremmo per... Comunque inserisce i miei dati nel computer, fa, guardi che il signor Pistolazzi, che sarei io, risulta trapassato il 24 ottobre di due anni fa. Dico, però, son tenuto bene, ma come mi muovo? Fa, no, no, guardi. No, mi spiace, sui terminali risulta morto. La carta d'identità è anche scaduta. Fa, son due elementi che collimano. Ma sai che per un attimo ho cominciato a credere? No, poi mi è venuta in mente, ho tirato fuori una multa presa due giorni prima, dico, questa qua come me la spiega? Ho lasciato il caro funebre in divieto di sosta? O è un caso di omonimia? Fa, eh, se lei guidava che era morto, altro che multa, c'è proprio il ritiro della patente. Dai! Ma ti sembra possibile che... Onestamente... No, allora... Dico, vabbè, adesso cosa faccio per risuscitare? Basta un'autocertificazione, proprio vado all'URD e mi metto in coda per il miracolo. Fa, no, no, deve andare dal medico comunale che si fa fare un bel certificato di esistenza in vita. Prendo il tram per andare dal medico, signora, nell'agitazione che ero appena morto, non è che mi sentivo tanto bene. Mi dimentico di timbrare il biglietto, l'unico che non ha creduto che ero trapassato è stato il controllore. Fa, questa mica la linea che va al cimitero, fosse stata quella io la davo buona, ma questa va da un'altra parte, vabbè, multa. Comunque arrivo dal medico comunale, aspetto il mio turno, dopo un po' il medico mi visita, fa, come mai è qua? Dico, guardi, ho appena scoperto che sono morto, guardato un po' strano, fa male il pistolato, si beve, dico, ma ogni tanto se devo trombare mia moglie. Fa, ha, 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 faccio, ho, ho, ho. Mi visita, fa, no, no, guardi, si vede che lei è vivo, dico, da cosa l'ha capito? Il polso c'è, dico, se per questo c'è anche l'orologio, vedi, ce l'ho qua sotto. Esco col mio certificato, proprio mi sentivo, proprio già molto meglio, no, proprio tranquillo, torno in comune, quello che era in coda dopo di me dal medico mi dice, ma com'è il dottore? Dico, guardi, questo qui è un fenomeno, risuscita i morti, garantisco io, no, quindi, arrivo comunque, dicevo, in comune, arrivo lì, il tipo mi fa, ce l'ha tre foto, guardi, è stato un errore del computer, il certificato non serve più, dico, tre foto. Ho detto, va bene, formato tessera o le facciamo già stampate sul marmo? Si è incacchiato, fa, ma come si permette, sono un pubblico ufficiale, ho detto, ma sta calmo, ho appena passato mezza giornata tra la vita e la morte, fai in coma? Dico, no, qui in comune, è stata lei, pirla. Finalmente esco dal comune con la mia carta di identità nuova che mi sentivo rinato, o il primo che incontro è stato il mio amico Mambretti, fa, pistolazzi, chi non muore si rivede, dai! Grazie. Grazie.